Ben trovati l'ATG della mobilità oggi e domani, lunedì di Pasquetta, normale orario festivo per la rete del trasporto pubblico in centro per due giorni via le fori imperiali, sarà Isola Pedonale con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118, regolarmente aperta la stazione Colosseo della Metro B, anche nella zona di Porta Portese, deviazione festiva per le linee 170, 719, 781, intanto a San Pietro questa mattina si celebra la messa di Pasqua, sono in corso di vieti di sosta e di transito nell'area di Burgo a ridosso della Basilica e di via della Conciliazione, inoltre sino alle 13 per la sfilata del reparto d'onore dei Carabinieri che alla fine della celebrazione farà ritorno alla caserma di via dalla Chiesa, sono possibili rallentamenti e brevi stop per 10 linee di bus e tutto dal Tg della Mobilità.